Vido la mano alzata lì da quella ragazza, ah ce n'è una lì, la signora breve per favore. Sì molto breve, io sono un insegnante di sostegno in pensione, di lettere da settembre, pensavo di aver recuperato la mia libertà, sono artista da 40 anni e più, e dico una cosa, mi sono ritrovata oggi in questa fuscina di creatività, perché ascoltare gli artisti è sempre stimolante, è sempre una cosa. Mi sono ritrovata traghettata nel De Camerona, io non sapevo che se avessimo compiuto come boccaccio questo viaggio attraverso la pandemia per giungere poi a un'opera d'arte, l'arte in quarantena, mi è piaciuto moltissimo. Però io dico una cosa, noi gli artisti, noi dovremmo stare a capo e non a coda della ribellione, perché durante la pandemia io ho sentito parlare politici, giornalisti e mi rivolgo al dottore Liguori, noi ci dobbiamo ribellare, io mi sono sentita mortificata, annientata, distrutta, non ho avuto nulla della mia interiorità ed emotività rappresentata. Io sono un artista, lo rivendico e desidero parlare da artista, apprezzo tanto Vittorio Sgarbi quando urla per farsi sentire, però lui deve urlare, deve dire che l'arte è bellezza e l'arte non ha bisogno di giustificazioni, l'arte è, però ci dobbiamo mettere noi in testa e non in coda a un movimento contemporaneo che possa guidare la politica. Forse è presunzione. Beh, è simpatico, sarà un'idea per un nuovo partito. C'è quella ragazza lì, Federica, Federica Nobili, alza la mano. Prego. Microfono vicino alla bocca, per favore. Buongiorno. No, allora, io volevo solo ringraziare per questa bellissima opportunità che è stata data con questo catalogo. Mi sono rivista molto in quello che diceva la signora Silvana Giacobini, che l'artista è una persona solitaria, che vive, insomma, molto nella sua interiorità. Infatti, nella mia esperienza, comunque, quando io dipingo, sto molto da sola e non sento la solitudine. E poi, niente, volevo solo ringraziare per questa bellissima opportunità. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? È una mano lì. Corti, per favore. Intanto rinnovo il ringraziamento a Salvo Nunes, che mi ha dato questa bellissima opportunità, e a tutti voi, naturalmente. Io sono stata anche a Venezia. Volevo fare solo una domanda a Maria Rita Parsi. Quanto può aiutare l'arte, sotto qualsiasi forma, la parte di bambina sofferente che abbiamo dentro di noi? Posso fare come fanno sui social? Uno slogan. Noi siamo un'opera d'arte e possiamo fare in tutte le forme della comunicazione e integrazione sociale arte. Quindi, non solo l'arte siamo noi, ma noi siamo l'arte, l'arte fondamentale è l'arte di vivere. Dobbiamo imparare a comunicare in forma corretta, che non è un giochino di parole. Perché ogni disturbo, lo ripeto, della comunicazione, non è mia la frase, ogni disturbo della comunicazione produce un disagio psicologico, una incomprensione. L'arte è proprio tirare fuori l'etrusco dell'anima, perché Dio perdona e l'inconscio no. Quando abbiamo strumenti per decrittare l'inconscio, e l'arte li permette. Ogni forma d'arte, ogni momento, dalla poesia, alla letteratura, alla musica, tutto quello che noi possiamo dire, anche le parole, sono una modalità, lo dialogo è una modalità per entrare in contatto con le parti più profonde di noi. Ci permettono di scalzare il falso sé, che è un po' la mascherina che mettiamo dietro le macerie e le grandezze dell'anima che abbiamo dentro. Quindi, per me, l'arte è di esserci. L'arte è vivere. Grazie Rita. Volevo ringraziare tutti, prima per questa opportunità che ci avete dato, e poi premetto che io ho sempre amato l'arte e la poesia, da sempre. E quando c'è stata questa cosa qui della pandemia, mi è capitato, quando ho visto per la prima volta quei camion della... Allora, io sono stata male, sono stata proprio male. La cosa che ho fatto, come prima cosa ho fatto una grafica, dove ho fatto dei camion con tutte le persone, e poi non mi è bastato questa cosa qui, perché stavo ancora male. Sentivo proprio dentro di me una sofferenza, un qualcosa che... Non è bastata, diciamo, l'immagine grafica, l'immagine così da imprimere sulla carta, queste cose qui, ma sentivo ancora un qualcosa dentro di me che mi faceva star male, e quindi ho fatto una descrizione di questa grafica che avevo fatto, scrivendo una poesia che ho chiamato La pandemia. E poi comunque ho continuato per tutto il periodo a fare tantissime grafiche, che mi hanno aiutato tanto, ma nello stesso tempo c'è stato anche dentro di me un arricchimento e una scoperta che non credevo neanche di possedere, tante di quelle cose, diciamo, che sono riuscita a mettere su carta. E anche, diciamo, anche tramite nella scultura. Ecco, grazie. Volevo ringraziare tutti per questa opportunità che ci avete dato. Grazie a lei. c'è un intervento lì in alto sulla destra, credo quella signora. È stato un modo per mettersi a confronto con se stessi, per far buttare fuori le ansie, la paura. Buonasera. Io sono una pittrice che... Microfono vicino la bocca. Sì. Posso toglierla un attimo? La mascherina. Ok, dipingo soltanto quando sono felice. È praticamente una particolarità che naturalmente ho dovuto fare più fatica in questo periodo particolare. Però credo che sia importante educare se stessi a trovare almeno un momento al giorno di trovare il momento di isolare le emozioni in positivo e quindi trovare il modo di esprimerle lasciando appunto un segno di positività. Grazie. È importante trovare durante la giornata un momento per emozionarsi e per far uscire queste emozioni. Tu che ne dici, Silvana? Quanto è importante trovare quotidianamente il nostro momento per far sì che vengono fuori le emozioni positive ma anche negative per non tenerle dentro voleva dire la signora. Guarda, condivido pienamente questo. Tieni presente che il mio pessimismo integrale è quasi inferiore a quello di Liguori che ho sentito poco prima e l'ho espresso in poesie che a rileggere sono tremende. veramente tu hai Fiori sul parabrezza che è la raccolta stampata da Raieri ed è appunto lo specchio di un'anima estremamente sofferente nella quale forse non mi riconosco nemmeno a mente fredda e razionalmente e invece evidentemente è la mia bambina terribile che vive in me. Io durante la pandemia ho scritto un romanzo che uscirà alla fine di settembre mi piace dipingere e dipingo acrilico perché è molto violento è molto immediato e riesco mi dà più soddisfazione l'impeto dell'olio che richiede non solo grande abilità ma anche grande pazienza e quindi è vero che l'arte ogni forma di arte è essere è vivere come dice Maria Rita ma è anche espressione di questo sentimento che urge dall'anima e guardate parlare di anima parlare di afflato sembra quasi passato retorico non esistente giustamente l'audio visivo ha battuto la parola eppure noi siamo quelli noi siamo coloro che parlano noi siamo gli artisti il web l'audio visivo è il mezzo di comunicazione ma si aggiunge a noi ecco noi dobbiamo considerare noi stessi non un'opera d'arte come vorremmo forse e come forse siamo Maria Rita ma coloro che vivono consapevoli orgogliosi di soffrire di amare di gioire umanamente e di esprimere i sentimenti forti che siamo abituati a non a nascondere ma forse a non comunicare a non esprimere data l'urgenza del quotidiano dati i problemi del quotidiano data la fame del quotidiano non nascondiamo che dobbiamo lavorare per vivere e per mangiare e mangiare significa anche mantenere una famiglia o collaborare al mantenimento di una famiglia eppure noi siamo anche gli artisti benvenga che esista un momento come questo una riunione come questa ma è simbolica emblematica è solo in piccola parte rappresentante della grande collettività noi rappresentiamo solo una piccolissima parte della collettività ma siamo la collettività e questo catalogo che mi ha colpito per la grandezza e la bellezza ma non per la mole ma per il contenuto straordinario ebbene questa è come una fotografia di ciò che noi possiamo essere ma che saremo ancora come dice Columbro cioè noi faremo cose che non abbiamo mai fatte ci aspetta questo futuro ci aspetta per gratificarci per darci quello che noi diamo nel momento in cui creiamo siete d'accordo? Corti per favore prego Foscolo dice che è l'unico criterio di immortalità è il ricordo quindi se noi non ricordiamo chi non c'è più è come farlo morire per sempre però io aggiungo anche che se ognuno di noi non fa qualcosa per farsi ricordare non può pretendere che gli altri lo ricordino e l'arte è uno strumento straordinario per lasciare un segno in particolare io parlo per me la scrittura io ho pubblicato dodici libri adesso sto scrivendo il tredicesimo che è intitolato il giro del mondo in poesia e dalle poesie che ho raccolto di tutti i vari continenti mi sono resa conto che la poesia è una maestra di vita c'è per esempio una poesia di Alda Merini che è stata definita la poetessa folle che pur avendo avuto una vita molto travagliata quando era bambina durante un bombardamento si era rifugiata sotto la sua casa quando è uscita ha trovato la casa crollata e nonostante questo ha scritto una poesia intitolata Sorridi perché il sorriso è la luce che illumina gli altri ma anche se stessi però io trovo anche che l'arte debba essere una sintesi di mente e di cuore perché c'è una sorta di scissura schizofrenica fra la sfera intellettivo-cognitiva e la sfera emotivo-affettiva per cui magari ci sono fior di professionisti preparatissimi nel loro mestiere ma che non hanno empatia con gli altri o viceversa persone buone generose ma ignoranti come capre e invece nell'arte bisogna documentarsi prima per esempio per fare poesia devi sapere che cos'è la metafora la sinestesia la sinistra abbiamo capito grazie Rotondi prego sopra prego Rotondi sì il microfono quel signore lì prego non volevo dire niente volevo fare una domanda voleva dire qualcosa no non volevo dire niente però ho visto la mano dica dica niente posso solo dire che parlando di arte io sono 42 anni che dipingo e lavoro e ricordando il discorso di prima quasi tutti i giorni lavoro e ogni volta che finisco un quadro mi sento soddisfatto lì domani mattina vado lo guardo dico no non va bene ce ne vuole un altro è giusto è l'andare avanti è dal 2356esimo quadro faccio il 2357esimo non capisco non ho ancora capito perché ma una cosa ho capito in tutto questi non capire che se non ci fosse la mia arte che mi dà questa gioia è soddisfazione di vivere quella giornata che io vado a letto che ho dipinto un quadro che mi ha soddisfatto sono contento e ringrazio una bella testimonianza sono contento una testimonianza di gioia e di soddisfazione per quando uno fa un quadro e si sente bene c'è qualcun altro nella parte alta magari che non vediamo da qui magari le signore un po' più timide ecco qua la signora bene buonasera a tutti sarò molto sintetica ricordo il termine pandemia pandemia ognuno di noi l'ha vissuta nel proprio nel chiuso della propria anima o comunicando o sostenendo il prossimo o i propri familiari il grande merito di questi momenti il grande merito del catalogo è avere fatto colloquiare le forme d'arte più diverse tra di loro e quindi comunicare io scrivo poesie comunicare anche con poesie oppure con un romanzo che colloquia con un saggio piuttosto che partecipare a questi eventi carichi di magia nonostante tutto è meraviglioso grazie a voi grazie molte sì grazie le signore non siete timidi alzate la mano che la dottoressa ecco sì bene è nuovo buonasera a tutti sono Alessandro Pisegna volevo prima cosa ringraziarvi per questa insomma importante opportunità che mi avete dato io ho una stima profonda per il maestro Columbro ci lega anche un aneddoto d'infanzia mi farebbe piacere poi raccontarglielo volevo condividere con il maestro secondo me la scrittura è anche una forma molto forte di coraggio in quanto mettersi a nudo io parlo io scrivo poesie anche insomma ho scritto racconti altre cose mettersi a nudo totalmente nella scrittura non è una cosa molto facile ci vuole anche del profondo coraggio è un'arte molto coraggiosa secondo me io parlo insomma sono anche d'accordo con la dottoressa Giacobini che è un'arte solitaria insomma mi piace scrivere di solito di notte quindi ho delle mie metodologie di scrittura quindi volevo condividere con il maestro questa cosa qui insomma è anche un atto di coraggio grazie grazie al maestro Columbro e al dottor Liguori che seguo da sempre sono un po' emozionato sono un po' emozionato scusatemi no no va bene una buona testimonianza scusatemi c'è una signora anche qui in terza fila che alza vedo una mano alzata qui in terza fila davanti la signora col bambino buonasera a tutti sono Mirce D'Areci come appunto diceva mio figlio poc'anzi racconterò un piccolo aneddoto una scoperta che io ho fatto durante la pandemia che riguarda mio figlio appunto qualche mese prima di ritrovarci tutti rinchiusi in casa a mio figlio a scuola venne fatto un venne richiesto di disegnare la rabbia su un foglio mio figlio di pronta risposta cartocciò il foglio e lo rimise sul banco degli insegnanti dicendo che la rabbia non poteva essere disegnata perché per disegnare ci vuole pazienza calma e la rabbia è un'emozione immediata rimasi così folgorata da questa reazione di mio figlio che innescò forse qualcosa anche in me io ho iniziato a scrivere quando avevo 12 anni per cucire un po' i miei strappi col mondo e con me stessa alla fine la scrittura ha cucito e costruito me e ho scoperto durante la pandemia che invece forse non bisogna cucirsi forse invece bisogna un po' strapparsi e che le emozioni vanno vissute come diceva la dottoressa prima a pieno perché noi ormai siamo veramente costruiti e adattati al mondo in realtà forse dovremmo adattare il mondo a noi e quindi attingere un po' dai bambini non serve per forza la pandemia per ritrovare la forma d'arte che cerchiamo a volte sono i bambini stessi a darci queste spinte queste forme quindi per me ecco forse l'arte la rivedo in mio figlio tutti i giorni e ringrazio di questo ringrazio voi ovviamente dell'opportunità che mi è stata data e spero che non serva la pandemia ecco per ritrovare l'arte dentro di noi grazie dai un attimo il microfono al bambino com'è la mamma parla un po' te com'è la mamma non ti fa mai arrabbiare qualche volta sì cosa? ti fa mai arrabbiare la mamma qualche volta sì no non tante non tanto eh tutto sommato so quando fa ogni tanto la pazzetta quando fa la quando fa la pazza ogni tanto la pazza ah la pazzetta eh vabbè però bisogna hai sentito tutti quanti noi siamo allora sì volevo dire che queste arti disegni e poesie che ci avete mostrato tutti voi ci hanno stupiti ci hanno fatto capire una una certa cosa che abbia il senso abbia un senso un certo senso un certo senso che si chiama arte grazie grazie lo volevano tenere nascosto capito questi lo tenevano nascosto questo fenomeno no? lo tenevano nascosto il bambino hai un talento come figlio eh? scusate volevo dirlo perché l'altezza inganna ma mio figlio ha otto anni questo è l'ottavo figlio di Vittorio diceva Marco eh è l'ottavo figlio nascosto di Sgarbi esatto avevo sentito che l'aveva fatto con una ragazza giovane Silvana deve andare Silvana deve andare perché c'ha un impegno la salutiamo è stata carina anche a stare con noi oggi grazie a voi grazie Silvana un bacione grazie e complimenti dal cuore e dalla testa e grazie a tutti voi amici che siete stati qui e mi avete dato tanto grazie a voi ciao Silvana grazie vai certo vai vai bene la tv chiama giustamente sì prego signora se può essere anche lei sul cinto grazie io sono Loretta Naimi e dipingo dipingo su olio la cosa che mi ha stranito in tutta questa situazione della pandemia è che il mio cervello era pieno di idee il microfono davanti la bocca che il mio cervello era pieno di idee da sviluppare sì non so se a voi è capitato la stessa cosa ma io ho avuto la necessità di mettere di mettere tutto su carta su carta disegni parole non so se se voi che siete nel campo del giornalismo avete avuto la stessa necessità di sviluppare idee direttore io la pandemia ha tirato fuori l'etrusco che è in me io ho capito che avevo dentro un etrusco ed è uscito però è più cattivo di quello che ero prima della pandemia perché appunto è etrusco però bisogna decrittare microfono no no l'etrusco quando esce non lo fermi più ecco c'è qualcun altro? no ho detto che sai la battuta Dio perdona l'inconscio no è certo e se lo decritti quello è etrusco è certo e quello è l'etrusco Dio perdona l'inconscio no è importante questa appunto eccoci Caterina ecco una cosa da dire agli artisti per l'importanza per continuare quanto appunto è fondamentale tirare fuori adesso siamo più leggeri adesso è estate auguriandoci un inverno sereno e tranquillo tutti di cuori l'immunità di greggio il vaccino eccetera ma quanto è importante raccontarsi attraverso le emozioni le emozioni del teatro le emozioni della scrittura le emozioni della pittura e anche le emozioni forse anche credo che lo sport o anche un orto possa essere arte se ben inteso voglio dire qualcosa che ci ricongiuga con noi stessi e ci faccia trovare il nostro equilibrio io ad esempio amo il mio lavoro sono un ragazzo felice perché ho trovato quello che faccio tutti i giorni e lo faccio con tanta passione e dedizione ognuno si riequilibria a modo suo allora io devo dire una cosa che ho estrapolato un po' di parole molto sintetiche parole donne bambini coraggio arte bellezza stare bene con voi stessi perché chi dipinge poi ha una forma di si sente bene ma la cosa più importante è che rende felice il fruitore cioè io facendo il giro sia la propiennale vedendo poi queste meravigliose opere anche dal catalogo le sfoglio questi colori meravigliosi mi date gioia bellezza poi opere che qualcuna magari trasmette anche disagio terrore felicità ecco gli sguardi molte opere ci sono questi sguardi particolari che mi hanno colpito e io vi ringrazio perché è una cosa bellissima devo ringraziare poi parlando anche di coraggio che qui Salvo Nunez ha avuto un coraggio incredibile l'anno scorso in quella pandemia ha avuto il coraggio di fare la probiennale a Venezia e sinceramente si è sentita forte l'emozione e si è sentita cosa poi più forte l'emozione che mi avete dato voi a me perché io penso che il 2020 come i vini l'arte i vostri quadri sono con un'annata veramente di grande spessore perché lì è uscito proprio l'emozione l'artista l'avete l'ho fatto uscire anch'io in un momento particolare che avevo avuto bisogno di dipingere dopo tanto tempo e voi che lo fate di professione perché siete degli artisti che appunto avete l'abilità e il dono ecco il vostro è un dono speciale è un dono divino e quindi avete il grande potere di rendere dare felicità ecco con la vostra con la vostra arte e salvo che ha permesso tutto questo e soprattutto di enfatizzare anche l'arte femminile perché io penso che è un oggi adesso non so quante persone quanti curatori e quanti manager dell'arte riescono a enfatizzare così l'arte femminile io penso che sia soltanto Salvo Nunez quindi le sue parole sono importanti perché lui oltre a parlare fa anche i fatti quindi io farei un applauso anche a Salvo Nunez troppo buona grazie Caterina sì un ricordo l'anno scorso è stato emozionante siamo stati in una bellissima chiesa Venezia era in pieno covid era iniziata da poco grazie al prefetto di Venezia al governatore Zaia e al sindaco che mi hanno dato l'opportunità di farla in questo palazzo bellissimo abbiamo fatto la probiennale ed era credo fine giugno quindi tre mesi e qualcosa dal covid è stata proprio il non arrendersi voler andare avanti quest'anno naturalmente da poco eravamo alla chiesa della pietà sono stati 36 gli amici dell'arte della cultura della televisione dello spettacolo sono venuti a trovarci con tanti televisioni emittenti è stata una grandissima soddisfazione e tra un po' abbiamo Spolito Spolito la grande mostra di Spolito con questo 64esimo festival di Spolito straordinario famoso in tutto il mondo e quindi andremo tra circa un mesetto o poco meno Spolito famoso nel mondo e poi come diceva Caterina Paolo la grande biennale di Milano che te la ricorderai torna a ottobre a Milano con artisti provenienti da tutto il mondo da più di 40 paesi questa grande biennale che vedremo finalmente l'arte che arriverà da tutto il mondo e come diceva la dottoressa Grifoni le selezioni in maggior parte sono al femminile perché vogliamo enfasizzare e sostenere l'alto al femminile perché ha una grande sensibilità come diceva anche la professoressa la cara amica Rita Parsi e perché la donna è un artista per antonomasia adesso io ci avviciniamo alla chiusura quindi Marzia vieni pure sul parco con noi per dire l'ultimo tuo pensi Marco che ci omaggerà di un piccolo pezzo recitato l'attrice Risaliti anche tutto 11-12 pezzi Paolo quanto è importante allora sei una bravissima attrice anche cantante addirittura wow Marco è sempre simpaticamente ironico te l'ha sanificato vedi come cambiamo ma qui è un'organizzazione Langeretti non scherzo mica volevo dire per quanto concerne chi volesse partecipare appunto alle selezioni di Biennale Milano appunto dicevo prima tra un mese tu sono ancora a pochi posti può sentire l'ufficio per proporre i propri lavori e poi dove abbiamo sulla destra proprio qui c'è il grande l'artista più famoso al mondo italiano è Amedeo Modigliani e faremo questo premio per i grandi artisti Amedeo Modigliani e qui tra noi Rita lo vedi sarà qui il grande Amedeo Modigliani faremo questo premio importantissimo un artista che è un'eccellenza italiana nel mondo eh certo è toscano altro che di Livorno dobbiamo dirlo proprio del grande Ducato di Toscana hai ragione Amedeo Modigliani riuscì a derivare a Picasso grandi amicizie riuscì a essere un artista straordinario i suoi quadri le sue mostre vanno dappertutto quindi faremo questo premio prestigioso e mi auguro che gli amici che sono adesso con noi qui sul palco saranno anche ehm in questo prestigioso premio in chiusura vorrei farti una domanda Marzia tu non hai nascosto più volte anche di aver avuto come diversi amici un male come anche il nostro amico Vittorio che in questo periodo non sta molto bene perché ha dichiarato più volte sta combattendo un cancro quindi ha alti e bassi a volte più bassi però ce la sta mettendo tutta per andare avanti certo non è più un ragazzino un uomo di grande energia ma tutti siamo sicuri che riuscirà a vincerla quanto è importante anche l'arte per stare in legerezza e per dare l'energia alla mente e al corpo è moltissimo come tutte le persone che stanno attraversando dei momenti come dicevo prima scioccanti di punto in bianco ti ritrovi completamente con devi affrontare i tuoi demoni e visto che l'arte sofferenza può diventare veramente una spinta di evoluzione di crescita che solo l'arte in tutte le sue forme può fare grazie grazie Salvo figurati grazie a te grazie a tutti gli artisti volevo ricordarvi che domani alle ore 16 nella storica Milano Argalleri questa galleria nel cuore di Milano ho avuto il piacere e l'onore di trovarmi Paolo perché la coincidenza mi ha legato io cercavo una galleria a un certo punto inizio a dialogare ne avevo altre gallerie a un certo punto inizio a dialogare con un signore che era proprietario di una storica galleria che esisteva da tanti anni però non mi disse subito la storia della galleria che era storica dove c'era stato Schifano Guttuso Filo dei Dominici Sbuetti aveva una storia incredibile dopo un po' sono stato a sapere dal gallerista che mi ha venduto la galleria che era la galleria dove ha iniziato Vittorio la galleria di riferimento di Vittorio un giovane Vittorio che faceva i consigli per gli acquisti al Maurizio Cazzoso e la storica Milana pensate il destino come ci mette lo zampino e quindi domani alle 16 in questa storica galleria che tra un po' compie 54 anni e alle 16 si inaugurerà la mostra con una parte dei bei lavori quindi ricordate che siete tutti invitati io saluterei gli amici da casa che ci stanno seguendo e ringrazio il direttore per i servizi che poi usciranno la settimana prossima parleremo a canale 5 e lascio a te la chiusura Paolo con lunga vita Arte in Quarantena eh sì dobbiamo fare Arte in Quarantena secondo anno poi terzo anno poi quarto anno è una vendetta è una vendetta è come una vendetta va fatta l'Arte in Quarantena va fatta con lo spirito di Marco Antonio amici cittadini romani non sono qui per lodare Cesare che sarebbe Nugnes sono qui per seppellirlo sotto l'Arte in Quarantena ma possiamo allargarlo anche alla poesia alle arti possiamo allargarlo famoso monologo è brutto e vabbè perché è un uomo d'onore e quindi avrà detto e sarà Sgarbi ma possiamo allargarlo anche alla poesia direttore l'Arte in Quarantena possiamo mettere anche la poesia è aperta alle arti quello che ho sentito stasera la poesia deve entrarci per forza noi siamo partiti con l'audiovisivo quindi i quadri e naturalmente gli eventi le performance perché abbiamo fatto molti video di eventi perché non si potevano andare a vedere però siccome la quarantena ce l'ha spiegato Maria Rita benissimo è un fattore dell'anima se uno si mette in quarantena può darsi che ci sta pure degli anni e non scopre più di tornare fuori allora siccome la poesia è spesso dimenticata e abbandonata la mettiamo nella seconda parte dell'Arte in Quarantena perché in verità ho sentito stasera tantissime persone che si occupano che si appassionano di poesia e quindi è importante facciamo l'Arte in Quarantena 2 e ci mettiamo dentro la poesia io ringrazio allora chissà cosa arriverà è certo poi lo allunghiamo c'è la ceramica poi perfino extraterrestri cose lunari ormai siamo qui e non ci muoviamo più allora l'appuntamento è mercoledì prossimo su Canale 5 alle 9.30 che parleremo ancora di Arte in Quarantena aspettiamo il servizio del TG.com salutiamo gli amici da casa grazie a voi per essere venuti e grazie al direttore alla dirigenza dell'Odiulma Langeretti alla brava assistente a Marco e tutti i tecnici a presto grazie a tutti